Cari amici, buonasera. Con questo video vorrei un attimino dimostrarvi quello che accade quando si pubblica su Start2Business e si lanciano le notizie e cosa vuol dire sviluppare il coraggio di presentarsi. Qui vediamo il sistema di Google Analytics. Google Analytics che ha in questo momento Start2Business come sistema che sta controllando e andiamo rapidamente a vedere i numeri che si stanno sviluppando da quando Start2Business è in onda. Abbiamo oltre 6 milioni di visite che provengono da oltre 1 milione e 2 di visitatori unici con un numero impressionante di visualizzazioni di pagine, cioè di pagine che vengono lette. Con un dato interessante di oltre 7 minuti di media per visita andate a moltiplicare e vedete quanti anni la gente passa su Start2Business. Perché accade questo? Accade questo, vediamo intanto in tempo reale quello che sta accadendo, qui vedete esattamente le visite che avvengono qui in basso anche i paesi da cui provengono queste visite, se andiamo a vedere le località oppure i paesi principali vediamo una forte, chiaramente Stati Uniti e Russia che sono grandi paesi, la forte presenza di loro, ma anche l'Italia con la Germania e la Svizzera che subito dopo seguono questi grandissimi paesi. Se vediamo la grandezza della Svizzera e dell'Italia vediamo che appunto sono paesi molto attivi sul nostro sistema e qui possiamo anche vedere esattamente da dove arriva la notizia. Con il nostro sistema di newsletter abbiamo la possibilità proprio di mirare sotto l'aspetto geografico ma anche sotto l'aspetto del target quelle che sono la diffusione dell'informazione stessa e della notizia. Questo è consentito anche grazie al Start to Business Magazine che è collegato al sistema di Start to Business stesso che è un giornale multilingua che consente appunto di collegare la notizia al proprio profilo e questo consente di avere una diretta interazione pragmatica, semplice e diretta con quelli che sono tutti gli strumenti di comunicazione presenti sulla piattaforma. Vediamo in questo istante tutte le persone che sono collegate sia attraverso il sistema di Start to Business stessa però anche attraverso per esempio una piattaforma come quella di Facebook che interagisce direttamente con Start to Business. Volevo darvi queste breve informazioni per incoraggiarvi a utilizzare questi sistemi di comunicazione che oggi sono molto importanti in particolare per le piccole e medie imprese e per le start up perché consentono di interagire a livello mondiale. Possiamo dire Start to Business è visitata in questo istante da 114 città attive però i dati di Google Analytics ci dicono che i paesi che sono e che hanno visitato Start to Business sono oltre 170. Sviluppiamo insieme il coraggio di presentarci, utilizziamo questi strumenti, partecipate a questo progetto, la registrazione su Start to Business è molto semplice ed è libera quindi vi invitiamo a venire come dicevamo le maggiori lingue europee sono presenti come anche l'italiano e il pulsante di registrazione lo potete trovare in alto a sinistra ed è in lingua italiana e vi consente potete inserirvi nella categoria che a voi interessa ma in particolare va anche inserita la categoria di target che si vuole raggiungere. Importante è inserire sempre il proprio sito internet come link in tutte le informazioni che si mettono perché questo vi aiuta anche a ricevere la visibilità che il stesso sistema Start to Business ha e vi trascina con il vostro sito internet su Google nelle posizioni più alte. Spero di avervi dato delle informazioni che vi possono essere utili, vi auguro un buon Start to Business e spero di incontrarvi sulla nostra piattaforma. Buona serata